Anch'io mi unisco ai ringraziamenti degli altri colleghi. È stato fatto veramente un enorme lavoro dal mio collega Paolo De Castro e enorme lavoro anche da parte degli altri relatori Ombra. Io voglio ringraziare l'equipe che ha lavorato attorno a Paolo De Castro. Se vorrei innanzitutto ringraziare il relatore l'onorevole De Castro e anche tutti i relatori Ombra. Grazie mille per questo spirito di buona cooperazione che è prevalso fra di noi. Abbiamo lavorato in modo determinato ma siamo riusciti a trovare veramente un risultato soddisfacente. Grazie Presidente, grazie anche al nostro relatore. Veramente ci ha presentato un po' un assaggio di quello che sarà il processo futuro. Ma io sono molto lieta di questo accordo che è stato raggiunto e io ringrazio e mi congratulo con il nostro relatore Paolo De Castro per l'eccellente e incredibile lavoro che ha fatto e per il buon accordo, molto buono l'accordo che abbiamo raggiunto. Anch'io vorrei congratularmi con l'onorevole De Castro, con l'onorevole McGuinness e con gli altri relatori Ombra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.